La crisi sicuramente è molto seria, più seria di quello che si pensa, sul piano internazionale e nazionale, più che anche il nostro territorio in maniera abbastanza forte, in parte la meccanica, la piaggio, legata ovviamente alle riduzioni delle quote di mercato, c'è un restringimento generale, c'è la zona del cuoio e forse strutturalmente deve preoccupare ancora di più, perché lì si intreccia una fase contingente con una crescita di competitività internazionale rispetto a quel settore che ci può mettere in difficoltà, c'è anche da noi, rispetto a Pisa, la vicenda delle caratteristiche, la vicenda importante di potenzialità che ovviamente risente in questo momento anche essa di un rallentamento perché cala la domanda e quindi c'è una preoccupazione. Il punto reale è che oggi in Italia c'è tuttora una risposta in termini di politiche nazionali che è nettamente inadeguata, è insufficiente e sbagliata per dare la risposta, perché da un lato sono poche le risorse che mettiamo, quelle che devono servire a proteggere di più colpiti, o colpiti a partire dai lavoratori, non solo come tutta la cassa di integrazione, ma anche quelle fasce di lavoratori che non hanno la protezione della cassa di integrazione. Ci sono quelle piccole aziende che non hanno la cassa di integrazione, ci sono lavoratori precari che non hanno nessun tipo di protezione. Gli errori di una debolezza, di una carenza di investimenti sull'innovazione e anche sulla formazione, sulla scuola, sulla ricerca, che sono i dati che strutturalmente poi contano nella battaglia di media e lungo periodo per la competenza di un paese. Un'ultima domanda che è anche d'obbligo, visto anche il monito che hai lanciato alcune settimane fa sulla questione della sangropena. Una cosa è anche un possibile rallentamento dovuto a questa fase di crisi, se ne può ragionare. Un'altra cosa è decidere di non fare il forno, perché non fare il forno, quindi l'investimento fondamentale significa chiudere l'azienda, questo non sarebbe assolutamente accettabile. Come c'è stato un rapporto serio e costruttivo nel definire quel progetto, cioè un'operazione di recupero e di qualificazione del territorio che portava dei vantaggi a loro, ma ovviamente dava la garanzia alla città che si investiva. E una parte dell'investimento in realtà è partito, perché il Capazzo di Nuovo lo stanno facendo, però non è quello determinante al futuro. Quello determinante al futuro è il forno. Non potevano tornare indietro rispetto agli impegni presi, quindi c'è una vigilanza costante e metteremo in campo con la sua evoluzione tutti gli strumenti possibili per cercare di salvaguardare nella città questa presenza industriale.